Buonasera, sono Diego Macario, casa Corona. C'è virus? Ah, sei tu? Tu hai già chiamato? Perché ti hai già parlato? Cosa stai facendo? Devi scegliere? E dove devi andare? In giro per il mondo? Ancora? Siete, ma non è meglio che non stai un po' a casa dove grazie a Dio? Che ne sa? C'è fila, tu non filma, legge, tu non libbra, fatti un solitario e solo tu. Insomma, ho trovato qualcosa ma è stata in una casa. Ecco, ti hai appiccicato con il tuo pipistrello. E non puoi fare pace. Ti ha cacciato in casa e ora sto incazzata nera. E hai già capito? Ma tu ti rendi conto pure quello che stai combinando con tutto nulla? Niente meno che in mezzo a noi ci siamo dovuti guardare in casa con i carcerati. Non potremmo scegliere più. Stiamo tutti a paura di te. La gente sta scendendo mazza. Chi ha luco fuori il balcone? Chi si mette a cantare? Ehi, c'è pure chi porta spazio il pappavallo per prendere loro l'aria. Ma tu ti rendi conto? Niente meno che ci hai fatto giuro di tutto. Ci hai levato pure la pizza. Ma bene, ma non ci potessi mangiare la pastina. Ma insomma ti rendo conto pure quello che stai combinando. Com'è riccio? Lo sai ma stai facendo il tuo lavoro? Scusa ma fai una pausa, fatti cent'anni a casa integrazione. Fai una vacanza. Ma perché non faccio il mestiere? Non lo puoi fare. E Ok, devi avere il mandato. E da chi? Non lo sai. E allora sai che trego? Ho mandato tu con chi ha nomi tutto quanto noi. Sì, sì, ma noi che ti mandammo a fangolo. Eh, capita brava, te ne hai la mia zanina, non ti vogliamo fare giù. A te è quella specie bestia, mamma, da parte di tutta l'azzatoia. Pua facciatoia! E qualcuno glielo doveva pure dire, no? Eh, mi raccomando, tutto tornerà alla normalità molto presto. Restiamo in casa. E che stiamo?